Mercoledì 12 aprile, benvenuti a questa nuova edizione di Quilicata Tg, buon inizio di settimana. Allicata al momento i contagi da Covid-19 hanno toccato quota 56, il numero complessivo dei positivi è stato reso noto ieri sera dalla Polizia Municipale che riporta i dati forniti dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, numero che testimonia purtroppo la risalita dei contagi nella nostra città. Solo poche settimane fa, lo ricorderete, L'Icata è stata ad un passo da diventare Covid-free, considerato che i casi erano davvero limitatissimi. Ora i numeri confermano che anche qui il virus continua a circolare e come, non bisogna dunque abbassare la guardia. Ed a proposito di Covid-19, da oggi e per due giorni i locali di via Marianello a L'Icata che ospitano i servizi sociali e il distretto sociosanitario resteranno chiusi. La riapertura salvo imprevisti in programma per mercoledì 14 aprile. Sabato sera infatti il sindaco di L'Icata, Pino Galanti, ha chiuso gli uffici dopo aver ricevuto la comunicazione dall'ASP che a un dipendente del comune è risultato positivo al Covid-19. Da stamani tutto il personale in servizio in via Marianello viene sottoposto a tampone mentre nei locali è stata già avviata la sanificazione. Cambiamo decisamente argomento. I ristoratori domani protesteranno in piazza a Roma nel corso di una assemblea generale. Chiedono di avere certezze rispetto alla data di riapertura. Si parla tanto del 20 aprile quindi tra pochi giorni ma non c'è ancora alcuna conferma ufficiale. A Roma dove è arrivata oggi abbiamo raggiunto Gabriella Cucchiara, presidente provinciale di Fipe Confcommercio alla quale abbiamo chiesto un contributo per illustrarci che cosa si farà domani. Vediamo. Buongiorno, sono Gabriella Cucchiara, presidente per la Fipe Confcommercio per la provincia di Abbrugento. Mi trovo a Roma dove domani la nostra associazione si riunirà in un'assemblea straordinaria per chiedere al governo e alle forze politiche una data certa per la nostra ripartenza e soprattutto chiederà di poterlo fare in sicurezza. Sono mesi che la nostra associazione chiede al governo delle regole per poter ripartire. Adesso il nostro tempo è finito, chiediamo futuro, chiediamo una ripartenza per il nostro lavoro. Il lavoro è dignità. Le imprese non possono più stare ferme, le imprese devono ripartire. La manifestazione sarà una manifestazione ordinata nel rispetto delle regole, così come il sistema della nostra organizzazione che ha sempre operato in tutto quest'anno entro la legalità. Però abbiamo bisogno di risposte domani quindi chiederemo la data certa per la ripartenza. I volontari dell'Aido di Licata hanno trascorso ben tre sere l'ultimo fine settimana davanti al municipio in occasione della giornata nazionale della donazione degli organi e tessuti. Il palazzo Liberty che ospita il municipio infatti da venerdì a domenica è stato illuminato con il simbolo e lo slogan della giornata sulla donazione degli organi. Dalla presidente regionale Aido Paola Pisciotta e dalla presidente dell'Aido di Licata Lavinia Filì ci siamo fatti spiegare il senso dell'iniziativa. Vediamo le interviste. Questa è una manifestazione, un momento importante per noi e anche significativo perché ci permette di portare avanti la nostra mission e quindi di diffondere il messaggio di solidarietà, di vita, di altruismo e di verso il prossimo. Quest'anno non è stato possibile ovviamente essere presenti nelle piazze e nei luoghi pubblici in mezzo alla gente per cui Aido ha deciso di illuminare le città. Licata è la città capofila per la Sicilia ed è stata illuminata con questo logo dell'Aido con i colori del rosso e del bianco tra le attività programmate sempre nella giornata della donazione degli organi. Anche un video che è stato realizzato da noi volontari Aido insieme agli alunni e alle alunne della scuola primaria di Noliotta, le classi quarte della sezione A, B ed E. Licata è comune capofila perché è la prima città a essere illuminata in Sicilia. Poi chiaramente il proiettore con queste diapositive viaggeranno attraverso le altre province così da avere tutti i gruppi e tutte le province la possibilità di illuminare le loro città con il logo dell'Aido e con il messaggio del valore della donazione. Ho voluto chiamare e quindi intitolare questo webinar il percorso del sì perché penso che abbia un valore etico, odontologico, morale e umano dire sì alla donazione degli organi. Quando noi moriremo almeno sette vite possono essere salvate con i nostri organi. Noi abbiamo l'esempio di Nicolas Green, un bambino californiano che morì in Italia e i genitori hanno dato un input emotivo alla donazione perché nessuno avrebbe mai creduto né sostenuto che loro potessero donare gli organi del figlio. A Palma di Montechiaro il numero dei positivi al Covid-19 ha sfondato il muro dei 200. Secondo le ultime comunicazioni del sindaco Stefano Castellino, al momento ben 202 persone sono in isolamento obbligatorio perché risultate positive al coronavirus. Ieri sera dall'Asp hanno reso noto che a Palma di Montechiaro c'erano appena stati cinque nuovi positivi e altrettanti guariti. Da Castellino arriva l'ennesimo appello ai palmesi a restare a casa, ad uscire solo in caso di estrema necessità. Palma di Montechiaro, lo ricordiamo, è in zona rossa ormai da tre settimane ma i contagi non diminuiscono. Lions Club di Licata e istituto di istruzione superiore Enrico Fermi insieme per l'ambiente. Sabato dei pini sono stati messi a dimora nella villetta Rosario Livatino nei pressi del villaggio dei Fiori e agli studenti sono state distribuite delle borracce ambientali ecologiche. Vediamo i dettagli dell'iniziativa in questo servizio. Alberi messi a dimora e borracce distribuite agli studenti. È in questo modo che due giorni fa nella villetta del villaggio dei Fiori intitolata da giudice Rosario Livatino i soci del Lions Club di Licata e gli studenti dell'istituto di istruzione superiore Enrico Fermi hanno lavorato insieme. Il servizio si inserisce, dice Angeli Citra, presidente del Lions Club di Licata, nel mese dedicato all'ambiente per il quale il distretto Lions Sicilia sta lavorando valacremente. Con zappe, piccozze e tutto il necessario abbiamo piantumato dei piccoli pini di cui ci prenderemo cura per rendere l'area verde ancora più ricca e rigogliosa. Nel sito, come si ricorderà, di recente l'amministrazione comunale aveva posto una stele che ricorda il giudice Rosario Livatino, mentre la Procivis aveva piantato degli alberi. Ora Lions e Fermi confermano l'attenzione per quest'area. Ringraziamo, conclude Angela Ricitra, la preside Amelia Porrello, i rappresentanti di istituto, il governatore Mariella Scammetta, il distretto Lions Club 108YB, il nostro socio Rosario Buonvissuto, delegato distrettuale per l'area ambiente, il comune di Licata per la sinergica collaborazione che ci ha permesso di realizzare questo significativo service per la nostra Licata. Accendi il tuo cuore di blu. Con questo hashtag, oggi, nell'istituto comprensivo Guglielmo Marconi di Licata, è stata celebrata la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Nel campetto sintetico della scuola sono stati esposti cartelloni, lanciati palloncini e espressi pensieri e considerazioni. Vediamo il servizio. Accendi il tuo cuore di blu. È l'hashtag che nell'istituto comprensivo Guglielmo Marconi di Licata, guidato dal preside Morire Lombardo, hanno scelto per celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. La manifestazione nel mondo è stata celebrata lo scorso 2 aprile, ma quel giorno le scuole erano chiuse perché era il venerdì santo, quindi al Marconi hanno rinviato l'iniziativa ad oggi. Referenti del progetto sono gli insegnanti Pina Lococo e Angelo Graci. Per la prima volta, anche per rispettare le norme di contenimento del Covid-19, la scuola ha deciso di celebrare la giornata all'aperto, sul prato sintetico del campetto che si trova sul retro dell'edificio. Hanno partecipato delle rappresentanze di tutte le classi. Sono stati coinvolti, scrive il Marconi, gli studenti del comprensivo dell'infanzia Giovanni XXIII e Olimpia, alla primaria di Noliotta e alla scuola media Marconi e Quasimodo. Per motivi logistici, gli studenti del plesso Quasimodo hanno svolto nella loro sede le attività programmate per la giornata. Due alunni per classe, nel rispetto delle norme e protocolli sicurezza anti-Covid-19. Ed eccoci giunti alla pagina dello sport che apriamo con il calcio. Al Licata Calcio, il Covid non fa più paura. Dopo alcune settimane di stop forzato causato dal focolaio registrato all'interno della squadra, con 14 persone tra calciatori e staff contagiate, l'incubo è finito. Solo due calciatori sono ancora in isolamento obbligatorio, mentre gli altri sono pronti a riprendere gli allenamenti. Sarà disputata con molta probabilità la partita di domenica prossima col Santa Maria Cilento in trasferta. Vediamo. L'incubo è finito. Tutti i calciatori dell'Icata, o quasi, sono guariti dal Covid-19 e a breve riprenderanno gli allenamenti in vista del prossimo match, la trasferta di domenica 18 aprile, per affrontare il Santa Maria Cilento, trasferta che quasi certamente si giocherà. È stato un periodo pesante, non c'è che dire, è il commento di Danilo Scimonelli, vicepresidente dell'Icata Calcio, ma ormai è alle spalle. Al momento solo due nostri calciatori sono ancora in isolamento obbligatorio, anche se stanno bene, mentre tutti gli altri sono risultati negativi al tampone e tornano a disposizione di Mister Campanella. L'allenatore giallo-blu, come si ricorderà, era stato il primo del gruppo a prendere il Covid e ha trascorso a casa il periodo di isolamento obbligatorio. Un paio di settimane fa erano risultati positivi al tampone tra calciatori e membri dello staff, complessivamente in 14. Perciò allenamenti sospesi, due gare di campionato rinviate e tutti a casa in isolamento. Ora, finalmente, nel tango allo blu torna il sorriso. Si torna sul sintetico del Dino Liotta, torna a comandare il pallone. Certo, bisognerà vedere in che condizioni sono gli atleti dopo due settimane di stop, ma considerato che molti di loro sono stati asintomatici, c'è già di giurare che si faranno trovare pronti per fare risultato in trasferta. Ancora sport, mountain bike, nuovo impegno ieri per i giovanissimi della scuola di ciclismo alicata in Coppa Sicilia. Sul circuito di Ragusa, affacciato sulla meravigliosa Ibla, hanno gareggiato in tre. Sebastiano Vicari ha ottenuto il quarto posto negli esordienti primo anno. Buoni piazzamenti di Orlando Augusto e Salvatore Bonvissuto, rispettivamente negli esordienti secondo anno e allievi primo anno. Il prossimo impegno per i bikers di Catesi è in programma per il 9 maggio a Erice. Con questa notizia chiudiamo qui l'appuntamento con Quilicata Tg. Ci vediamo mercoledì. A presto.